Ah, che bello andare in vacanza in un bel hotel di paese, o in un hotel di lusso, o di super lusso, oh ma qui si esagera. Ecco alcune foto di hotel davvero folli, buon divertimento. Hotel sulle montagne del Peru, a forma di sfera trasparente, oh mio dio, io là non ci vado. Hotel tra le montagne del Nepal, ancora peggio, una follia. Hotel galleggiante con pavimento in metro, in Indonesia, qui possiamo farci un pensierino. Questa non ha bisogno di presentazione, il Dubai Hotel, il quale possiede alcune camere che sono sotto il livello dell'acqua, uno spettacolo. Questo è un po' angosciante, la nave che è caduta e atterrata, buh. Qui ci troviamo nelle foreste di Zanzibar. Hotel a forma di una vicella spaziale, sembra tipo quella dell'Apollo in rientro, tra l'angosciante e il divertente. Che tristezza, hotel su piattaforma militare di Smith, non ho proprio idea. Un'altra veduta del Dubai Hotel, questa è una delle sale colazioni. Questo romantico hotel tra le rocce, si trova in Turchia, davvero affascinante. Il romantico e affascinante Ice Hotel in Svezia. Il Kakasaluten Resort Hotel in Finlandia, tra i ghiacci, con le cupole di vetro a forma di glu. Questo è il Safari Hotel in Africa. Hotel della montagna magica in Cile, totalmente immerso nella natura, anzi, è esso stesso la natura. Questo è il fantastico Manta Resort a Zanzibar, con le camere sott'acqua. Questo hotel, con vagoni di treno riconvertiti in camere, si trova in Russia. Quest'altro hotel, simile al precedente, si trova in un bel posto assolato, in Sud Africa, a pochi metri dal mare. Ok ragazzi, anche questo video purtroppo è finito. Io vi invito a mettere un bel like, a iscrivervi al mio canale, a guardare gli altri video. Ciao, alla prossima! Ciao, alla prossima!